La Fondazione Bracco entra in questa maniera nuova di sviluppare welfare, un welfare aperto attraverso reti sociali, aperto ai territori e speriamo di avere molte risposte. Valuteremo, c'è un modo di valutare, abbiamo il Politecnico che ci aiuta nelle valutazioni, valuteremo l'impatto sociale che queste proposte possono avere perché è molto importante che l'impatto sia misurabile. Un bel messaggio, un messaggio di sperimentazione in un senso nuovo, vediamo che cosa riusciamo a fare. Grazie a tutti.